Mi chiamo Riccardo Mortandello sono nato nel 1981 e sono l'abbonato numero 2000 Oddio ho perso il conto da quale anno sono abbonato sicuramente dai tempi della Piani magari con qualche intervallo per qualche biglietto preso al volo però da tanto tempo La prima partita che ho visto di cui ho memoria è un Padova Varese a metà degli anni 80 credo fosse una Coppa o Coppa di Serie C, una Coppa qualcosa ma non mi ricordo La partita più bella che ho visto in realtà sarebbero due sicuramente Padova-Barletta e ricordo anche con grande piacere Padova-Ascoli Il gol più bello che ho visto è stato il gol finale in Padova-Barletta, stupendo Sei tutto per noi Padova-Barletta, stupendo